Ok, diciamo che non so bene il perché di questo video, però mi andava di farlo, quindi salve a tutti e benvenuti nel mio canale! Oggi voglio proporre un qualcosa di diverso rispetto alle solite top riferimento e curiosità, ossia un test principalmente rivolto a tutte le persone che sono cresciute durante i primi anni del 2000, però se siete più piccoli vi invito comunque a rimanere che potete partecipare anche voi. Quindi, che test sarà? Beh, è semplice. Cercate di riconoscere il cartone dalla sua sigla, con apposite censure ovviamente, se no sarebbero davvero troppo semplici da riconoscere. E a proposito di riconoscere dei cartoni, vi dico già che alcuni saranno davvero semplici. E in caso, se questa serie vi piace, potrei portarne altre, magari con altri soggetti tipo anime o sitcom. Dunque, vedrò di non farvi perdere altro tempo e cominciamo subito con il video. Ma prima... sigla! Prima comunque che inizi il video vero, ci tengo a farvi sapere che siccome questo video sarà proprio un format diverso, non sentirete molto la mia voce perché comunque è incentrato su delle canzoni, quindi non vi faccio perdere ulteriore tempo. E cominciamo con il primo cartone. E cominciamo con il primo cartone. Censura 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 Censura